Attento, idiota! Ho detto qualche colpo di avvertimento, non di abbatterla! Mi dispiace, signore, faccio del mio meglio. Chi l'ha fatto, tiratore scelto? Io, signore! È mio cugino! E quello chi è? Quello è Stronzo, signore. Questo non ha capito! Come si chiama? Stronzo, signore, è il suo nome, Maggiore Stronzo. E suo cugino? È stronzo anche lui, signore, tiratore scelto, Philip Stronzo. Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave? Presente! Lo sapevo, sono circondato da stronzi. Continuate a sparare, stronzi!